Ballando con le stelle 2018 Ballando con le stelle 2018 Anticipazioni cast concorrenti e data d'inizio in tv Chi ci sarà nel cast di Ballando con le stelle 2018? Chi sono nuovi concorrenti famosi, che scenderanno nella pista da ballo della trasmissione condotta da Millie Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli? E' questa la domanda, che cominciano a porsi i tantissimi fan del varietà del sabato sera di Raiuno, riconfermato anche quest'anno in palinsesto dopo gli ottimi ascolti dell'ultima edizione, che ha registrato un incremento del numero di spettatori con una media di circa 4 milioni e più del 20% di share Ecco quando ritorna in onda Ballando con le stelle 2018 su Raiuno Al timone di Ballando con le stelle 2018 ritroveremo ancora una volta la padrona di casa storica Millie Carlucci, la quale in queste settimane sta lavorando per mettere a punto le novità ai nomi del cast dei concorrenti di questa edizione Quando andrà in onca la nuova serie del programma, le anticipazioni ufficiali rivelano che Ballando con le stelle sarà trasmesso subito dopo la finalissima del festival di San Uremo 2018, quindi a partire dal 17 febbraio in prime time alle 21 e 15 circa subito dopo il game show di successo, soliti ignoti condotto da Amadeus Prima dell'inizio della fase serale, la trasmissione avrà anche una striscia in daitine, sono previsti 4 appuntamenti dal lunedì al venerdì dedicati a Ballando con te, lo show itinerante, che Millie Carlucci e gli altri prof di ballo hanno portato in giro in tutta Italia per scegliere i nuovi concorrenti MIG da portare in trasmissione quest'anno Le prime anticipazioni sul cast di concorrenti di Ballando con le stelle 2018 Per quanto riguarda il cast di concorrenti di questa nuova edizione di Ballando con le stelle, le anticipazioni rivelano che sono circolati i primi nomi di coloro che sembrerebbero essere in pole position quest'anno Tra questi spicca Giovanni Ciacci, noto al grande pubblico per essere il jojo della trasmissione detto fatto condotto da Caterina Balivo su Rai 2 Il cast di quest'anno, inoltre, potrebbe contare anche sulla presenza di una delle attrici spagnole più amate dal pubblico televisivo, parliamo di Maria Bouzas, che vediamo nei panni di Donna Francisca nella sua popera Il Segreto in onda su Canale 5 E poi ancora si vocifera che ci sarebbero delle trattative in corso anche per Jessica Notaro, la ragazza riminese aggredita con l'acido dall'ex fidanzato Edson, confermata in toto la giuria dello show capitanata da Caroline Smith Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti